Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Mortara alla Basilica di San Lorenzo dove abbiamo un concerto di otto campane. Adesso sono le 10.45, ci sarà la messa alle 11 e suonerà la distesa completa a otto campane. A presto da Campanaro 29. A presto. 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 A presto.